buongiorno buongiorno è un cazzo oh, vedi quanto stai rilassato, guarda che lavoro, guarda che cincillante fermate porca no eh subito benedizione venigus bovis impotentis deus e padre e tre figli mascarzoni mascarzoni come via il bello de Roma il bello de Roma, il bello de Roma come stai? benissimo benissimo, sono rilasciato rilasciato? che vorrebbe di rilasciato? ah, sono sdraiato guarda il albero che ti dice? ma tu fai i rotti beh? ma come ho? questa mattina sei che lo faccio certo, hai pregato? dai, giù che lavoro, guarda loro tutti i paccamento totale proprio ma che sta a dire? che sta a dire o no? ma voi ci capisci capisci più niente figli vi comunico una cosa se fate swipe c'è il video in? in premier come in? in premier c'è il video in premier della canzone sta pieno fate swipe up azionate la campanellina e appena esce boom tutti a vederlo ragazzi non perdetelo e andate a vedere che parte farà Filiberto fate swipe primo ballerino del sottoscala di Milano eccolo che quando mettere nel pomodoro io le imbottiglio ciao 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 ragazzi compratevi a Rapao che influencer ragazzi eh che influencer guardate che cosa sta pieno Filiberto sta pieno sta pieno guardate che bronchite il pescherito è per il risveglio della natura morta ah sì 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 se rivisitasse qualcosa vabbè eh oh che bello che anno mio gli anni passano dormimo? sì oh oh stai fermi da biocche fermi che da una zampata fa come ieri è morto anche la zampata ma dopo è morto è morto anche il cincillato è morto anche il cincillato guardate che spettacolo grazie grazie rosso scarlato rosso per te prato sta a panza all'aria ho comprato sto guarda il cane guarda il cane rosso scarlato come fa il coccodrillo come? 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 eh eh Nicoletta che cosa ha fatto? centro tavola splendido eh Filipe? che donna è davvero artista dei fiori eh sì è una fioraia nata ma che stiamo scherzando? e oggi quanti grammi Filipe? oggi 90 grammi prima portata ok prima portata 90 grammi terza portata 90 grammi a posto a posto eccolo guarda ma tutta sta pasta ripastata con doppia pasta ripasteggiata tripla pastata ma che dieta è? che dieta è? che dieta è? è quella che mi puoi cazzo mie e poi e poi e poi e poi e poi e poi oh no e poi ooooh sta guardando a me sta guardando sono regionale sbagliato ma cazzo 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 ma massimo ma non mi avrò il mese com'è? com'è? la tassetta la tassetta con me lo puoi mangiare? mai mangiare che? puristirolo no come no no puristirolo non l'ha mai mangiare però ti è venuto uguale eh ma non l'ho mai mangiato non ce l'avrò oh ma chi? quello che dico che sta con le gambe ferate è in sei giorni che sta così eh ma quando si butta? quando è che si butta? che l'ho visto sempre così non si butta mai quando si butta? oh sti mi sa che è una statua ma che sta come? vuole andare se vuole buttare ma è una statua che attori ragazzi attori proprio a livelli altissimi che ci avete più attori a livelli altissimi ragazzi di grande cinema italiano ma sono tre giorni che stanno in quel modo si buttano e allora beve meno o fa la cataratta fa la cataratta che beve meno una delle due che attori bello denare o fa la cataratta o fa la cataratta non è che io fa sta sporca tutta le mia cosa fermati ma guarda che casino o fa eccoci qua come ti piace il pelo come ti piace il pelo no nero lungo e ritto tutti ad ascoltare sta pieno fate swipe up pelata è buono solo i pomodori perché dopo il resto e perché quelle sono buone pelate dopo la roba pelata non ne sta bene da nessuna parte quindi la figa vuole col pelo come più lungo m e nero lungo e riccio riccio quindi andiamo a a pelo perché perché sta pieno come si è stato bene quanto che tazzo grazie anche la tromba sta macchina ciao amico mio ciao come si è stata benissimo grazie Federico perché quella è una cosa magica po' quella gente quell'acqua quelle sono persone indimenticabili vabbè certo ma che stai a fare sto a fare la sera a te ti ho fatto questo grazie insalata ci sta ragazzi ci sta detox a go go coccodrilli ultimi giorni disponibili per poter pranzare qua su questo tavolo insieme a noi fate swipe acquistate sta pieno e sarete sorteggiati apparecchio ti posso fare un pennello si dai cazzo fammelo un pennello no un pennellino così un pennellino levatelo ma un pennello no no e dove va a fare no sei stato contento desti giorni vabbè ti sei rilassato un po' vè eh vè che c'è vè che c'è di qui le brocchette del cane vè vè qui sopra mettele di qui schiacciale no schiacciale se no te le metto di qui addio no 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 e niente volevo condividere con voi questo momento spettacolare tornato a Sisi eccola la bimba proprio ora sotto questo splendido panorama mi è venuto in mente il saluto dell'estate il saluto del coccodrillo così facciamo quando ci vediamo così bellissimo quando vedi un coccodrillo fai così saluti come il coccodrillo o no o che ti fa tu arrivi sempre a vedere spavore la gente no ti tengo attivo no eh ti tengo attivo sì come veni a dormire con te con il cazzo eh tu per dormire con il video di che della canzone ma tu l'hai visto secondo te com'è è bello ti è piaciuto guardatelo che bello se lo dice nonno Faustino ragazzi cioè pazzesco alle 13 uscirà il video di sta pieno vero certo tu sei contento e guardatelo che bello guardatelo bene perché ci saranno delle sorprese eh e vedrete chi è nonno eh coccodrilli vado a letto sono stanco passano tre giorni bellissimi ragazzi perché quando è una famiglia splendida degli amici stupendi che ti circondi di persone veramente di cuore è è tutto più bello veramente è oh senza parole quindi bene così come dico io domani sarà un giorno importantissimo ragazzi non ve ne ho parlato tanto ma il video di domani secondo me è una bomba eh veramente è fatto benissimo anzi ringrazio i ragazzi di Fuori Focus Giovanni tutti quanti eh domani vedrete una cosa veramente bella chi ancora non l'ha fatto attivasse la campanella su youtube così lo vedete subito e per il resto niente Buonanotte e domani servono tutti i coccodrilli tutti 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 anche questi del cuscino tutti tutti i coccodrilli su youtube a vedere il video quindi ragazzi mi raccomando facciamo una bella squadra il vostro capitano vi aspetta domani su youtube alle 13 saluto dei coccodrilli lo so raga non sono sbagliato a scrivere su una storia prima scusate 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 a tutti i professori ho scritto scabapapà non lo so invece scatenatevi però vabbè il bello è anche questo che